Mamma 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 mia che partita è stata questa Inter Sassuolo che termina con il risultato di 4 a 2 ma stavamo già in vantaggio tra zero Dobbiamo proprio subirli quei due gol lì, cioè voglio dire Dobbiamo sempre finire la partita, dobbiamo sempre cercare Dovrete sempre cercare di farci vivere 10-15 minuti nel brivido Poi meno male che Lukaku ha fatto doppiette E se la proprietà non lo riscatta adesso non so che cazzo si si mettono a fa' Comunque tre punti pesantissimi che dopo la sconfitta del Milan con lo Spezza Che tra l'altro che cazzo hanno fatto appello la diciottesima in classifica Ci portano a più 5 da loro E la zona Champions potrebbe anche essere una cosa abbastanza Cioè una cosa più agevolata Però ricordiamoci, mo' martedì ci abbiamo a giocare l'altra partita col Milan Domenica ci abbiamo Napoli Dopo Napoli ci abbiamo l'Atalanta Quindi ancora è abbastanza dura Però sono convinto che se giochiamo un pochettino come abbiamo fatto nelle ultime 6-7 partite Si può tranquillamente cercare di prendere il quarto posto Quello poco ma sicuro se ci mettiamo a giocare bene Perché le carte in regola ce le abbiamo Le partite sono quello che sono Dobbiamo sprontare Napoli e Atalanta Però voglio dire Comunque non è che ci faremo mettere le palle in testa a qualcuno Quindi adesso pensiamo soltanto a martedì Perché in questo momento è quella la partita che conta Poi ci mettiamo a programmare la partita per il Napoli e tutto Però adesso testa la partita di martedì Che è probabilmente la partita più importante dell'Inter negli ultimi 10 anni Probabilmente E nulla Io direi che vi posso salutare qua anche perché è un ristorante Quindi ci vediamo Bella rega